Caprari Quagliarella palla morbida attenzione perché ci arriva e trova il gol del 3-1 Kovnaki prova a riaprirla la Samp dopo il gol al Crotone ora anche questo a San Siro contro l'Inter per il 3-1 sembrava lunga la palla di Quagliarella invece è stato bravissimo anche Andanovic qui non perfetto nell'uscita tutt'altro visto che non è uscito